Vediamo ora il caso della moltiplicazione. Dunque, noi abbiamo due frazioni, 5 quarti per 16 venticinquesimi. Allora, nella moltiplicazione tra frazioni si può operare con una semplificazione cosiddetta incrociata, in cui andiamo a semplificare, ove possibile, il numeratore della prima frazione con il denominatore della seconda e il denominatore della prima con il numeratore della seconda. In questo caso sono semplificabili, infatti 5 e 25 possono essere entrambi semplificati dividendoli per 5, perciò 5 diviso 5 fa 1 e 25 diviso 5 fa 5, e 4 e 16 possono essere entrambi semplificati dividendo il 4 per 4 che fa 1 e il 16 per 4 che fa 4. Il risultato è quindi 4 quinti, perché una volta che ho fatto le semplificazioni, devo moltiplicare numeratore con numeratore, quindi 1 per 4, 4, e denominatore con denominatore, quindi 1 per 5, 5. Vediamo un altro caso e mostriamo un tipico errore che viene fatto quando si tratta di semplificare le moltiplicazioni. Se io ho una frazione 2 quinti moltiplicata per 8 decimi, la semplificazione che posso operare in questo caso è quella tra il 2 e il 10. Il 2 diventa 1 e il 10 diventa 5. A questo punto alcuni studenti hanno la tentazione di andare a semplificare il 5 al denominatore con il 5 al denominatore. Questa cosa è assolutamente errata e da evitare. Non è infatti possibile semplificare denominatore con denominatore. L'unica semplificazione che si poteva fare è quella tra il 2 e il 10. A questo punto non ci rimane che fare i calcoli delle moltiplicazioni tra i numeratori, quindi 1 per 8 che fa 8 e 5 per 5 che fa 25. Il risultato è quindi 8 venticinquesimi.